In A12 per lavori lo smincolo di Colle Salvetti è chiuso in entrata in entrambe le direzioni in uscita provenendo da Genova. In A15 traffico congestionato tra Borgotaro e Pontremoli verso La Spezia. In Fipili per lavori un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze e un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est verso Livorno. Per questi lavori entrata chiusa Empoli Est verso Firenze. Rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. In direzione Livorno rallentamenti tra Scandici e la Strassigna e coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!